Diplomi falsi e titoli fittizi, così in 16 avevano scalato le graduatorie del personale ATA ma sono stati scoperti e denunciati dalla Guardia di Finanza. Lo screening, spiegano i militari, si è innescato dopo aver constatato un anomalo trend positivo di domande presentate nella provincia di Arezzo da parte di candidati provenienti da altre aree geografiche, principalmente dal sud Italia. Le verifiche si sono incentrate sulla di costruzione della carriera scolastica e lavorativa di circa 40 persone sulle graduatorie di sette istituti aretini. Si tratta di profili professionali di collaboratori scolastici e assistenti amministrativi e tecnici. In due casi su tre le domande di inserimento o di conferma dei titoli autodichiarati erano viziate da dati falsi. Diplomi e titoli mai conseguiti ed invece esibiti, tra l'altro con voti altissimi o periodi di lavoro mai svolti. In tre dei sedici casi i candidati avevano inoltre autocertificato periodi di servizio prestati in una scuola friulana di Pordenone, ma i finanzieri hanno appurato che in realtà non si erano mai mossi dalla loro città di origine in Campania. Non solo, la scuola friulana sarebbe già al centro di una separata inchiesta giudiziaria che aveva acceso riflettori sull'istituto qualificato come diplomificio. Tutte false attestazioni che avrebbero però valso molto agli indagati l'agognato posto di lavoro. I reati di cui adesso dovranno rispondere è truffa aggravata ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. Il danno per l'erario si aggira intorno ai 100.000 euro.